Ministro, cos'è la moda, la Fashion Week milanese? Beh, è una grandissima occasione di raccontare ancora una volta una storia unica che è quella dei prodotti italiani nel mondo. Rappresentiamo il più importante dei settori nel mondo, quello della moda, del tessile, rappresentiamo una quota di mercato enorme in tutta Europa. Il lavoro che dobbiamo fare è raccontare quanto più possibile questa storia perché questo alimenta una filiera, non solo la filiera dell'abbigliamento, della moda, del tessile, ma alimenta la filiera del turismo perché raccontare la storia dei prodotti italiani, l'eccezionalità dei prodotti italiani, significa attrarre in Italia turisti che sono affascinati dalla nostra storia. Grazie Ministro, buon lavoro!